Sono 56 positivi oggi in Irpinia, il numero più alto da inizio settimana. 10 contagiati in città, 5 a Cervinare e Montemiletto, ancora positivi a Montemarano e Sturno con 4 case e Montella con 3. Il virus rallenta ma non si ferma, in particolare nei piccoli comuni continua a preoccupare. A Montella il sindaco Buonopane, in seguito alla positività accertata negli uffici comunali, ha ritenuto opportuno mettersi in isolamento, così come alcuni dipendenti, assessori e buona parte dei consiglieri di maggioranza. Già nei giorni scorsi il primo cittadino aveva prorogato la DAD fino a domani. A Montemarano la positività di un dipendente comunale che ha avuto contatti con la popolazione scolastica ha portato alla decisione di sospendere le attività didattiche in presenza fino al 29 maggio compreso. Il comune invece rimarrà chiuso al pubblico fino a mercoledì 26 maggio. Positivo anche un dipendente comunale di Lacedonia, il sindaco Antonio Di Conza, ha così deciso di chiudere gli uffici municipali fino ad oggi per consentire la sanificazione di tutti gli ambienti. I contatti della persona risultata positiva sono in attesa del tampone. Scuole in DAD fino a domani anche a Sant'Angelo dei Lombardi, Caposele, Montefredano e Montefalcione, mentre a Montemiletto il sindaco ha prorogato la DAD fino al 1 giugno. Nelle prossime ore è attesa la decisione del sindaco Di Avellino per quanto riguarda le scuole superiori. Festa, a causa dei contagini comuni nella provincia e le paure manifestate da studenti e genitori, non ha fatto mai riprendere le elezioni in presenza alle scuole superiori. Una decisione che pur riscontrando il parere favorevole della maggior parte delle famiglie ha portato allo scontro con il Codacons. L'associazione ha infatti presentato un esposto contro la decisione del sindaco Festa che sarebbe contraria alla normativa nazionale. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, a pochi giorni dalla fine dell'anno scolastico.